Io appena l'ho ascoltato, ripeto, il primo pezzo proprio capisci che qualcosa è successo. Che l'abbiamo messo volutamente come primo, proprio perché è probabilmente la canzone più pesante del disco, o comunque una delle più pesanti. Però volevamo far capire che tirava un'aria diversa, insomma, che c'è stata una volontà di rinfrescarci proprio sia noi a livello di quello che suoniamo, di come abbiamo approcciato lo scrivere le canzoni in maniera diversa, e anche un po' il suono della band, un po' la nuova line up che abbiamo. Quindi un insieme di cose che aprono proprio un nuovo libro dei Lacuna Coel, non solo un nuovo capitolo.